Si parte per questa nuova stagione con quali obiettivi per l'Angolana? Sicuramente parlare di obiettivi è un po' presto. Sicuramente siamo una squadra con un po' più di consapevolezza, un po' più di sicurezza dalla nuova gestione societaria, questo gruppo di imprenditori locali di Città Sant'Angelo che hanno sposato il progetto per far sì che la matricola angolana, che è una matricola importante e storica per l'Abruzzo, non sparisse. Queste persone diciamo che ci stanno facendo sentire più sicuri con un progetto importante a lunga durata. Quindi in questo momento parlare di obiettivi per questa stagione è un po' prematuro. Lo fatto sta che per quanto mi riguarda secondo me siamo una buona rosa fatta di persone per bene, bravi ragazzi e persone che sicuramente cercheranno di vincere tutte le partite come fra tutte le squadre. Adesso non posso dirti qual è il nostro obiettivo, però questa è la situazione attuale. La vera grande novità è l'arrivo in panchina di Simone Miani e Fabio Fuschi da queste prime settimane. Qual è l'impressione? Beh, io ho avuto la fortuna di averli come compagni e adesso come allenatori l'impressione è di due ragazzi che hanno voglia di fare, due ragazzi molto preparati che si vede che hanno giocato tanti anni a calcio, che conoscono le dinamiche sia fuori che dentro al campo. Essendo molto giovani è più facile per noi che siamo una squadra molto giovane anche relazionarci con loro e quindi sta creando questo rapporto bellissimo di una squadra che farebbe tutto per il proprio allenatore e viceversa. Vi auguro tutto il meglio per il suo futuro. Hai avuto qualche richiesta in estate, hai deciso di continuare a sposare questo progetto e in eccellenza inevitabilmente continui a fare la differenza. Grazie per le belle parole. Sì, diciamo che è stata un'estate un po' calda con me per il semplice fatto che non ho mai aspettato a firmare così tanto in là ma purtroppo non ho potuto perché ero in viaggio di nozze. Però sì, in questa categoria non avrei potuto sposare un progetto diverso di quello che è l'angolana dato che c'è il mio cuore, sono cresciuto da bambino, sono loro che mi hanno formato e lanciato, diciamo, o almeno provato a lanciare nel calcio professionisti quando mi hanno andato all'ascoli. Perciò sì, devo molto a questi colori e quindi ho scelto di sposare questa squadra e spero di farlo per molto in questa categoria.